16 dicembre 2015 in compagnia di Pierpaolo Segneri, facciamo alcuni commenti, questa potrebbe essere una seconda puntata, un consuntivo relativamente al romanzo cosmico che Pierpaolo ha scritto in questi mesi un romanzo per il web, il titolo in che mondo viviamo, che è uscito in varie puntate sul web, è stato molto apprezzato, chiediamo ovviamente a Pierpaolo qualche commento alla fine di questa pubblicazione, come si è soddisfatto di questa creazione e so che ci farà delle rivelazioni che sono abbastanza particolari sul significato di alcune cose che erano scritte in queste puntate di questo romanzo. Grazie Gianni, grazie a Liberi.tv, siamo riusciti a portare a termine la pubblicazione di questo romanzo cosmico, in che mondo viviamo, in realtà questo romanzo io l'ho scritto tra il luglio e il dicembre 2006, poi la pubblicazione è avvenuta invece tra il luglio e il dicembre 2015, cioè di quest'anno, è stato costruito intorno a un diario alchemico e per cui intriso anche di riferimenti simbolici, allegorici, metafore e in particolar modo anche su quello che è l'aspetto della numerologia. Per esempio, se ti ricorderai, anche i telespettatori ricorderanno che registrammo l'intervista, la prima, proprio per il lancio del romanzo cosmico in che mondo viviamo, il 25 luglio era esplicitamente per ricordare la figura di Luigi De Marchi che proprio in quel giorno ricorreva l'anniversario in quanto mio maestro, riferimento anche per tanti vari aspetti e soprattutto perché lui parlava della rivoluzione cosmica e il 25 luglio era l'anniversario della scomparsa avvenuta nel 2010, ma anche oggi, cioè i vari appuntamenti non sono casuali, siccome i capitoli sono 21, perché il numero 21 ha un significato, il numero 21 anzitutto è l'amicizia, quindi l'unità, la capacità di stare insieme, ma è la lealtà, è la fortuna. Il numero 21 ha una serie di significati, ma soprattutto è 7 per 3, infatti 7 per 3, 21 è considerata la triade del cammino umano, infatti la storia dell'avventurosa fantasia all'interno del percorso umano, ripercorre proprio questa triade, la cui figura geometrica che la rappresenta è proprio la spirale. Per esempio oggi, facciamo un esempio, non è un caso che ti ho chiesto di fare questa intervista perché oggi è 16 dicembre, il 16 è 6 più 1, 7, dicembre è 12, quindi 1 più 2, 3, quindi è 7 per 3, 21, ed è diciamo il numero che ricorre. Anche l'ultima puntata del romanzo, l'ultimo capitolo è stato obbligato, mantenendo sempre il lunedì, il 7 dicembre, anche lì 7 dicembre 2 più 1, 3, era 7 per 3, 21. E quindi, ovviamente, perché il 20 luglio per esempio? Abbiamo iniziato il primo capitolo con la pubblicazione del 20 luglio, perché il 20 luglio è l'anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11, cioè dell'arrivo dell'uomo sulla luna. Essendo un romanzo cosmico ci sembrava già un'idea partire da una data precisa che ricorlegasse, oltre ovviamente al progetto Viking, cioè quando il 20 luglio 1976, proprio la sonda Viking arrivò su Marte e anche lì è il 20 luglio, anche qui l'elemento cosmico. Del resto il riferimento è l'ultimo capitolo alla sonda New Horizons, che proprio il 14 luglio invece di quest'anno, del 2015, ha fotografato la superficie di Plutone, arrivando per la prima volta appunto al ridosso di Plutone e fotografando praticamente un cuore stilizzato, disegnato sulla superficie, come a dire il futuro ha bisogno d'amore. Il 14 luglio è ovviamente una data particolare, oltre a ricordare la presa della Bastiglia nel 1789, ma ricorre ovviamente anche il significato di libertà, uguaglianza e fraternità, che erano i valori della rivoluzione francese, poi coincide anche con il fatto che è l'onomastico di Camilla. Siccome il romanzo è stato ispirato da mia moglie, quando l'ho conosciuto appunto nel 2006, ecco il 14 luglio è anche il giorno di Mizar, cioè riferito al personaggio. E anche la presentazione ufficiale che facemmo al Teatro Arciliuto di Roma, un piccolo teatro ma importante, con una certa carica anche artistica, universale, emotiva, anche emozionale, l'abbiamo fatta il 30 settembre. Anzitutto, sempre a livello di numeri, il 30 settembre è il 3, settembre è, come dice, 7, era sempre 3 per 7. Ma non solo, c'era anche la volontà di farlo il 30 settembre perché il 30 settembre è anche il giorno e il mese in cui Amadeus Mozart presentò, fece la prima, la prima messa in scena della sua opera il flauto magico a Vienna, in un piccolo teatro di Vienna. E quindi il riferimento anche questa volta a Mozart e a questo elemento diciamo alchemico del flauto magico. Ce ne sono tanti riferimenti che ricorrono e penso che sia divertente anche andarsene a vedere. Per esempio c'è stato un lettore, Marco, che ha trovato uno molto interessante, dice Pier Paolo Segneri. Pier Paolo, come ho detto, era un omaggio a Pasolini, dunque io mi chiamo Pier Paolo, staccato come Pasolini. Ecco, lui dice Pier Paolo Segneri, ha detto Marco scrivendomi sono tre parole, ma se contiamo tutte le lettere del nome e del cognome vengono 16 lettere, ma 16 è 6 più 1 e quindi 3 per 7 e quindi ancora 21. Insomma è ricco di questi elementi e il romanzo è disseminato di riferimenti simbolici particolari che penso abbiano dato un valore in più, perché c'è un simbolo dietro e dietro a un simbolo c'è un significato. Tutto questo era stato pensato, riflettuto prima, a cominciare da questa intervista di oggi. Altri riferimenti ci sono, comunque si può andare su fattidicultura.net, c'è anche una mia lettera ai lettori che ho scritto dopo l'ultimo capitolo, il ventunesimo, in cui faccio dei riferimenti a queste cose che stavo dicendo e la lettera si chiama i numeri segreti del romanzo cosmico. Perfetto, allora Pierpaolo diciamo che oltre ad avere queste abilità da scrittore e anche professore, quindi possiamo dire che abbiamo scoperto che se gli dovesse andare male come professore, come scrittore può sempre mettersi a leggere le carte, insomma. No, le carte no, però mi piace molto l'umanità e io penso che la cosa che mi interessa di più è guardare le persone negli occhi, guardare e sentire e ascoltare le storie delle persone, quasi diventare amico delle persone proprio attraverso la conoscenza della storia, ecco perché poi insegno anche storia e quindi è questo romanzo cosmico, è un modo per indagare l'animo umano, riscoprire l'umanità, l'essere umano con i suoi pregi, i suoi rifletti, con le sue imperfezioni e anche con la sua necessaria elevazione anche di coscienza, di coscienza civile e quindi più che fare le carte continuare ad osservare, a guardare e ad ascoltare le persone. Grazie per prosegneri. Grazie a tutti.